In uno dei commenti mi chiedete cosa intendo quando parlo di percorso bariatrico. Per alcuni il percorso bariatrico è semplicemente l'insieme delle visite che servono a dare l'idoneità a fare l'intervento bariatrico e lo svezzamento che si fa dopo l'intervento per imparare a mangiare in modo corretto. Per me il percorso bariatrico è qualcosa di molto più ampio e molto molto più importante. È tutta la strada che si fa dal momento in cui si capisce di aver bisogno di guarire dall'obesità fino ad oggi. Per cui, mettetevi comodi, oggi vi racconto il mio percorso bariatrico. Sono stato obeso per 20 anni, ma due anni fa ho trovato il coraggio di affidarmi alla chirurgia bariatrica. Grazie alla sleeve gastrectomy ho vinto la mia guerra contro l'obesità e le battaglie contro il diabete, l'ipertensione, le apne notturne e tantissimo altro. Da allora racconto il mio percorso in questi video nella speranza di poter ispirare e aiutare qualcun altro a trovare la propria strada per vincere l'obesità. Se vuoi aiutarmi a sostenere questo progetto basta che ti iscrivi al canale e che condividi il più possibile questi video. A 16 anni ero in perfetta forma fisica, non avevo nessun problema di peso. Eppure, data l'altezza e anche il peso dei muscoli, pesavo 95 kg. Sono sempre stato orgoglioso di essere intorno al quintale, quando il peso è iniziato ad aumentare piano piano e verso i 18-20 anni effettivamente ero un quintale di uomo, ne ero orgoglioso veramente tanto. Le cose però pian pianino hanno iniziato a peggiorare e il peso ha cominciato a salire. Intorno ai 25 anni il quintale era già diventato 118 kg. Qualche anno dopo ero arrivato a 130, 140, 150 e la bilancia non mi pesava più, ma credo di essere arrivato quasi a 180 kg. Nonostante il mio peso fosse innegabilmente alto, non avevo idea di cosa intendesse veramente indicare l'indice di massa corporea. O meglio, la formula la conoscevo benissimo. Avevo bene in mente la grandezza fisica che andava a misurare, avevo bene in mente che significava che ero obeso, ma nella mia testa, visti anche gli esami del sangue a posto, la pressione a posto e nessun tipo di sintomo, la mia idea era che ero un obeso sano. Ma obeso e sano, nella stessa frase, non possono starci. Essere obeso significa già essere malato. Essere obeso significa già che hai bisogno di curarti. Questa cosa non la capivo. Mi facevo quasi simpatia. Sì, ok, sono obeso. Sì, ok, mi devo dar da fare. Sì, ok, devo dimagrire. Il medico di base mi guardava e mi diceva, sa che lei dovrebbe dimagrire? Sì, so che devo dimagrire. Grazie, vaffanculo. E vaffanculo anche a te. No, in realtà non lo mandavo a faffanculo, però sai che dovrebbe bere meno caffè, sai che dovrebbe mangiare meno sale, sai che dovresti dormire di più, sai che dovresti fare più moto, sai che dovresti perdere peso, sai che non dovresti fumare, sai che dovresti bere di meno, sai che dovresti risparmiare più soldi, sai che dovresti... Certo, le sappiamo le cose che dovremmo fare per vivere meglio, ma sai che devi fare qualcosa per l'obesità, sai che devi dimagrire, ricadeva lì fra le best practice, dei consigli, dei suggerimenti, delle cose che puoi scegliere di fare o no, tanto sono un obeso sano. L'obesità non mi ha creato nessun problema fino a un certo punto, fino al punto in cui ormai ero obeso. Io non lo sapevo, io non lo capivo, io ero convinto di mangiare più o meno come gli altri, ero convinto di avere solo una pancia molto grossa, che tutto sommato, ma no, le braccia sono magre, le gambe sono magre, ma guarda che muscoli che ho sulle braccia, guarda che muscoli che ho sulle gambe, è vero, c'erano, ma io ero obeso di classe 3, io ero obeso grave, avevo un BMI superiore al 40, un indice di massa corporea, per dire in italiano, superiore al 40. Non stavo bene e infatti è arrivato un certo momento in cui dal nulla ho cominciato a non sentirmi particolarmente bene, ma avere mal di testa, avere sempre sonno, avere sempre sete, avere insomma non stare bene. Non stavo male, ma non stavo bene. Sono andato dal medico e magia, magia, ipertensione. La pressione non era più perfetta. La pressione era alta al punto di aver bisogno di una prescrizione e una terapia costante per tenerla nei valori corretti e quindi da sono obeso ma sano, sono obeso ma iperteso. E il mondo è cambiato. Poi mentre stavo adattando le mie pastigliette per la pressione con l'aiuto del medico, nel giro di 15 giorni sono tornato dal medico perché a quel punto la pressione si era un po' abbassata, mi sentivo un po' troppo fiacco e casualmente lì dal medico, ciao, mi dia il dito che proviamo la glicemia. Tic, prova la glicemia, strabuzza gli occhi. Ciao, cambiamo macchinetta, mi dia l'altro dito che rifacciamo la prova con un'altra macchinetta. Strabuzza gli occhi perché avevo la glicemia a 489. La gente con la glicemia a 489 va di corso in pronto soccorso perché sei a un passo dal coma. Nella mia testa fino a 15 giorni prima ero obeso ma sano, a tanto così dal coma ma sano, tarati i farmaci dell'ipertensione, tarati i farmaci del diabete, ho avuto problemi di vista perché nel mettere a posto questi valori non riuscivo più a vedere bene, vedevo tutto sfocato da vicino, da lontano, non riuscivo a compensare, non riuscivo, non vedevo, non guidavo, insomma mi sono fatto un mese di malattia a casa perché non potevo andare in ufficio, eravamo prima del covid, prima dello smart working e comunque non sarei riuscito neanche a vedere il monitor del computer, quindi non ero in grado di lavorare. È stato un passo fondamentale nel mio percorso in cui mi sono reso conto che ero malato, in cui mi sono reso conto che iniziava un declino rischioso, pericoloso, mi sono andato a vedere che cosa comportava l'ipertensione, che cosa comportava il diabete, che cosa rischiavo e ho iniziato a preoccuparmi. Ho iniziato a guardare gli altri obesi gravi quando li vedevo in giro con altri occhi perché mi rendevo conto che stavano male e mi rendevo conto che non era solo un problema di quanto siamo grossi, quanto è difficile trovare dei vestiti, quanto è difficile anche solo presentarsi in un modo decoroso al lavoro, perché se trovi solo delle magliettone della tua taglia e trovi solo dei pantaloni che sombrano più dei sacchi della spazzatura, è complicato vestirsi in un modo consono ad avere delle realtà lavorative dove tendenzialmente si venga in giacca e cravatta. Sì, bello figo che ti fai la camicia su misura e ti fai l'abito su misura, ma a parte che ti costa tantissimo, ma soprattutto per tutti gli altri abiti che non sono fatti su misura non sei tu che scegli come vestirti, ma ti metti quello che trovi e qualunque cosa trovi la prendi e la metti di corsa. Ma dentro a quei vestiti mal accompagnati, e non per volontà loro evidentemente, iniziavo a vedere delle persone che soffrivano, delle persone in declino e delle persone che rischiavano di fare una brutta fine. Ho iniziato a capire che le mie aspettative di vita stavano diminuendo diminuendo, per colpa dell'obesità che si è portata all'ipertensione, che si è portata al diabete. Lì ho iniziato a cagarmi sotto, perché ho capito che io, come gli altri, ero in pericolo. E lì è cambiato qualche cosa, ma non ero ancora pronto. Il mio percorso di essere umano non era ancora arrivato alla maturità sufficiente. Sono andato avanti un paio d'anni con diabete e ipertensione in questo modo, fin quando nel febbraio del 21 una mia collega amica, obesa, mi ha parlato del suo intervento di Sleve e me ne ha parlato col cuore in mano perché io potevo capire quello che stava passando con l'obesità e perché voleva dirmi che lei si stava salvando. E io ho preso quell'informazione e l'ho messa un angolino, non l'ho buttata via, l'ho messa lì. E poi sono andato a fare un controllo dal diabetologo il quale mi dice, guarda, ma perché non pensi a un intervento di mini bypass, di bypass? E io ho guardato come dire, che cos'è sta roba? E lui non è stato lì a spiegarmi che cos'è quella roba, però lui mi ha detto una cosa e lui mi ha detto, se tu oggi vai dal tuo medico e gli dici che ti interessa questa cosa, tra un anno noi siamo qua e probabilmente togliamo la terapia del diabete, perché vuol dire che il diabete lo fermi, dal diabete non guarisci, me l'ha detto chiaro e tondo, non guarisci, però lo fermi e probabilmente vivi 15, 20 anni come una persona normale, senza bisogno della terapia del diabete e senza tutti i problemi legati al diabete. E il diabete è una malattia che ti consuma. In un anno avrei potuto congelare il diabete e ci mette il carico, anche l'ipertensione. E lì ha fatto tac qualcosa, ci ho pensato, ci ho rimuginato, ci ho ripensato e ne ho parlato con la fra, ma perché sì, ma perché no, ma ne ho veramente bisogno, ma in fondo ho solo un grosso pancione, ma in fondo sto bene, no non sto più bene. Ho diabete, ho di ipertensione, ho dei figli, ho una prospettiva per il futuro, ho dei sogni, ho delle speranze, ho delle cose che vorrei fare e da una parte vedo il declino e dall'altra uno che mi dice guarda che sto declino lo fermi in un anno e diventi anche magro. Cosa fai se non sei un coglione? Vai dal medico, vai dal medico e chiedi informazioni. Ed è un altro passo, perché vuol dire che hai immaturato dentro di te tutto quel percorso che ti porta da dire, chi se ne frega che sono in sovrappeso o obeso, a capire che la tua vita, la tua aspettativa di vita come lunghezza e come qualità di vita è in gioco, a capire che puoi fare qualcosa e a capire che per iniziare a fare qualcosa ti basta andare dal medico di base e chiedere cosa ne pensa del bypass. Io al tempo conoscevo quella parolina, perché era quella che mi aveva detto il diabetologo, quindi io sono andato dal medico, ho detto bypass e il medico mi ha detto ricetta per visita dal chirurgo e era tutto contento, un sorriso da qui a qua, perché diceva sì, probabilmente sì, fai una cosa fantastica. Porco Giuda, faccio una cosa fantastica, ho prenotato la visita, ho fatto la visita, gli esami del sangue e io torno a casa sempre con più speranza da una parte e dall'altra parte un bel bottone rosso che so che in qualunque momento posso pigiare e dire mollo tutto. Perché? Perché farmi squartare un pezzo di stomaco non è che proprio proprio fosse nelle mie corde. Mancava ancora un pezzo di percorso, per questo parlo di percorso, perché è una cosa che dura anni, tanti anni. E quindi è arrivato il momento in cui io e la fra eravamo in vacanza, eravamo a Campo Imperatore appena arrivati su in moto a guardarci un panorama stratosferico e suona il telefono. Policlinico San Marco di Zingonia, salve, volevamo dirle, che può venire nei prossimi giorni a fare gli esami per valutare la sua idoneità all'intervento di chirurgia dell'obesità. Pietrificato lì dove ero, lì ho scoperto che gli esami che dovevo fare comprendevano la gastroscopia e quello è stato il primo momento in cui la mia reazione è stata gastroscopia, non posso farla, non ce la farò mai a farla e quindi, vabbè, peccato, la chirurgia bariatrica non fa per me. Per fortuna l'ho solo pensato e non l'ho mai detto. Quando sono stato a fare gli esami, il famoso pacchettone, cioè gli esami per vedere se ero idoneo alla chirurgia dell'obesità, un'altra cosa mi ha cercato di far scappare. La dietista mi diede un pacchettone di fogli dove c'era scritto tutto quello che dovevo sapere e effettivamente c'era scritto tutto, anche se erano delle consapevolezze a strati diverse per cui a una prima lettura non capisci bene tutto e ti fermi alle prime cose che ti spaventano, ma poi capisci che lì c'era già scritto tutto, 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 c'era già anche tutta la dieta dello svezzamento post intervento, c'erano scritti i problemi che ci potevano essere, tutto, c'era tutto, fantastico, semplicemente non ero pronto a capire tutto. Infatti ho apprezzato di avere in mano quei fogli e di poterli rileggere nel tempo man mano che ero in grado di cogliere dei livelli diversi di informazione. E presi i fogli, alcune abitudini dovranno cambiare per sempre. Mangiare bocconi piccoli, masticare bene, aspettare fra un boccone l'altro, non bere i pasti ma bere fino a mezz'ora prima e da un'ora dopo. Preso il foglio l'ho messo nell'angolino in alto a sinistra della scrivania della dietista e ho pensato dentro di me. Non ce la posso fare, non posso fare questo intervento, non è per me. Invece poi qualche giorno dopo, pensandoci, ripensandoci, pensando a che razza di fine avrei fatto, ho ripreso in mano quel foglio e ho provato a mettere in pratica quei cambiamenti che avrei dovuto poi mantenere per tutta la mia vita e scoprire che tutto sommato non erano impossibili, neanche quelli. Così come non era impossibile fare la gastroscopia, così non era impossibile pensare di operarsi, così come non erano impossibili tante cose che prima per me lo erano. Prima non ero pronto, l'ho dovuto maturare di nuovo il percorso. Nel fare tutti gli esami, avevo lasciato la gastroscopia per ultima, ho scoperto altri problemi che avevo, perché mi hanno ricordato che avevo il fegato grasso, che si sommava al diabete e all'ipertensione. La polissomografia ha fatto venire fuori che soffrivo di apnee notturne, moderate. Moderate e pericolose, perché addirittura erano sufficienti ad avere dei punti di invalidità. Infatti, mi è stato prescritto l'uso della C-PAP, perché senza C-PAP sarei stato un pericolo per me stesso e per gli altri, perché le apnee notturne sono pericolose, perché possono provocare dei danni cerebrali se resti troppo tempo senza respirare, oppure semplicemente dormi talmente male che di giorno hai perennemente sonno e rischi banalmente di addormentarti mentre guidi, con il rischio di far male a te stesso e agli altri. Quindi non è uno scherzo, non è un russo, è di nuovo un qualcosa che ti fa rischiare la vita. E quindi obeso, iperteso, diabetico, fegato grasso, sindrome delle apnee notturne... Tutte cose che attentavano alla mia vita, che la accorciavano e che la rendevano pericolosa per me e per gli altri. Forse questo è stato quello che mi ha fatto trovare il coraggio di andare a fare la gastroscopia, oltre ovviamente al supporto della Fra, che è stato fondamentale, ma alla fine ho fatto anche la gastroscopia, da cui ho scoperto di soffrire di una orco giuda, esofagite. Arriva la telefonata del pre ricovero e lì ancora un colpo al cuore, perché scopro che vista l'esofagite è necessario fare una manometria esofagea. Mi terrorizzava, ero terrorizzato, ero pronto a mollare tutto per qualunque minuscola scusa. Finché a un certo punto invece ho iniziato a vedere la luce, perché il percorso che ho fatto e il tempo che ci ho messo, i mesi che sono passati dalla prima visita agli esami, al pre ricovero e al giorno dell'intervento, mi hanno permesso di costruire la consapevolezza che quello che volevo fare era guarire dell'obesità. Ed è secondo me fondamentale questo tempo, perché questo è tutto il percorso che ti porta ad essere uno che pensa di essere sovrappeso ma sano, obeso ma sano, a uno che capisce che se vuole sopravvivere deve fare queste cose e arrivare pronto a un intervento chirurgico, perché non c'è altra strada, perché capisci che non hai il tempo per perdere in vent'anni quel di peso che hai messo su in vent'anni, che devi fare qualcosa di drastico, di urto che mi risolve il grosso dei problemi in pochissimo tempo e che mi dà la possibilità di prendere fiato e finire di mettere a posto le ultime cose dopo. E questa consapevolezza fa parte del percorso e in questo percorso sono stato a un certo punto accompagnato dalla struttura di zingonia, dalle visite, dal pacchettone, dalla chiacchierata con la dietista, dalla chiacchierata con la psicologa, dalla chiacchierata con il chirurgo, dalla chiacchierata con l'anestesista, perché tutte queste cose sono stati dei piccoli pezzettini del puzzle che sono andati a incastrarsi finché ero pronto. Eppure ero ancora pronto in qualunque momento a mollare tutto, perché la paura era enorme. La paura di non riuscire a cambiare abitudini per sempre, la paura di cambiare io, perché tante volte avevo visto gente mettersi a dieta, cambiare, diventare qualcun altro che non mi piaceva. Insomma, passano i giorni, ma dentro di me si matura una consapevolezza diversa. Forse mi arrendo al fatto che non posso arrendermi, non posso lasciare che tutte queste malattie mi portino via. Per fortuna ho tenuto duro, ho fatto il pre-ricovero, ho fatto la manometria che alla fine è stata molto meno peggio di quanto pensassi, ed ero pronto. Ero pronto ad andare sotto i ferri. Ma ancora la sera prima del ricovero, la paura umana c'era, e la voglia di mollare tutto e scappare, di restare così, perché nonostante ero un catorcio, nonostante ero pronto a esplodere in qualunque momento, o forse bisogna dire le cose come stanno, avrei potuto morire in qualunque momento. Nonostante questo ero pronto a mollare tutto. Ma ho tenuto duro, mi sono presentato in ospedale, sono salito su quel lettino, mi ci sono sdraiato e ho fatto l'intervento. Questo è il percorso? Sì, il primo pezzo, la prima metà. La parte dove c'è voluto più coraggio e più determinazione, ma non la parte più importante. Nel senso che questa è la parte che mi ha risolto il problema fisico, mi ha risolto le malattie. La seconda parte è stata diversa, completamente diversa, molta meno paura, molta più soddisfazione e in un certo senso tutto facile. È la luna di miele bariatrica. Perché? Perché il peso va giù veloce, perché il diabete sparisce e con esso la terapia. Aveva ragione il diabetologo. Un anno dopo, esattamente un anno dopo da quando mi ha detto quella frase, io ero lì a fare il controllo, era passato 20 giorni dal mio intervento di sleeve e mi ha tolto la terapia del diabete. Ragazzi, vi rendete conto? Mi ha tolto la terapia del diabete. E pochi giorni prima il medico di base mi ha tolto la terapia dell'ipertensione perché mi si era abbassata talmente tanto la pressione con la perdita del peso e con il cibo più corretto che con le pastiglie ero praticamente una gomma sgonfia. E tolta la terapia ho iniziato a stare benissimo. La chip up? Eh, la chip up l'ho tenuta qualche tempo di più, ma ho iniziato a dormire sempre meglio, essere sempre più riposato e a un certo punto la polisonografia di controllo che ho fatto dopo ha chiaramente detto che le apene notturne erano sparite. Più. Quindi, accidenti, avevo messo a posto tre cose gigantesche. Ma anche questo è un percorso. È un percorso in cui vedi i risultati fisici, vedi i risultati sulla tua salute, vedi che si può fare, vedi che puoi stare meglio, vedi che ti riprendi la tua vita a 360 gradi e vedi che arrivi a poter vivere normalmente come chiunque altro. Ma questo fa sempre parte di un percorso. Un percorso che a un certo punto, se lo fai nel modo corretto, ti porta anche a farti delle domande, a renderti conto che prima eri obeso non perché avevi le ossa grosse, non perché avevi solo una panciona, ma perché evidentemente sbagliavi qualcosa. E questo è il secondo capitolo. Ed è il momento in cui inizi a lavorare sulla tua testa, perché capisci che se eri obeso, eri obeso perché qualcosa qui ti spingeva ad avere dei comportamenti sbagliati con il cibo. E questo è un nuovo mondo. È un mondo, è un percorso in cui potresti aver bisogno di essere accompagnato da uno psicologo. Io per esempio mi sono rivolto a una psicologa che mi ha dato una mano in tre sedute, mi ha veramente aiutato tantissimo a mettere in prospettiva tutta una serie di piccole cose che mi hanno cambiato l'approccio al mio modo di essere. E quindi è un percorso di crescita, è un cambiamento. Grazie alla slive, a tutto quello che si è portata dietro, alla consapevolezza che si è portata dietro, io oggi sono una persona migliore. E non perché sono più magro e più figo. E non perché non sono obeso e non ho le malattie. Tutte queste cose insieme al fatto che sono diventato una persona migliore, più consapevole. E questo porta altri passaggi, altri percorsi che sono ancora in itere per quanto mi riguarda. È una scoperta quotidiana. È quotidianamente capire qualcosa di nuovo di me stesso e del mondo che mi sta intorno. Per questo parlo di percorso. È un percorso che inizia e che probabilmente non finisce, per fortuna, perché è un continuo percorso di crescita. Per fare questo percorso ci sono dei momenti in cui si ha bisogno del supporto esterno, del chirurgo, dell'equipe medica, eventualmente dello psicologo, magari anche solo delle persone che abbiamo vicino, degli altri momenti in cui è un percorso che si fa in solitaria perché bisogna fare i conti con se stessi, ma è un percorso meraviglioso. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. Se il video vi è particolarmente piaciuto o ritenete che vi ha aiutato particolarmente potete lasciarmi anche un super grazie e lasciate i vostri commenti o le vostre domande qui sotto perché piano piano rispondo sempre a tutti. Qua trovate un link a qualche altro video che magari potrebbe interessarvi e qui sotto, perché no, ci sono i viaggi in moto che facciamo io e la Fra. Ciao a tutti e al prossimo video!